attraverso corrado piancastelli entità agnosis come esseri stanchi voi in genere vi abbandonate alle leggi umane e naturali della terra senza un esercizio critico io credo che il 90 per cento se degli abitanti del pianeta trascorre la propria vita senza riflettere bene e senza guardarsi dentro vive cioè soltanto seguendo quando lo segue il patrimonio culturale della storia e gli orientamenti della società in cui vive preconfezionati assunti in maniera acritica come pura e dannosa sovrastruttura tutto questo rende più difficile la stessa esperienza spirituale perché ormai lo dovreste sapere un'esperienza è veramente tale se vissuta con intelligenza e profondità perché essa si incida dentro deve passare attraverso il lavoro personale e il lavoro come amore è sempre una sofferenza perché richiede uno sforzo ma quando questo sforzo è compreso quando il lavoro della vita è capito fino in fondo anche la sofferenza viene meno e può diventare invece una manifestazione di gioia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti